Import ed export lariano in aumento nella prima metà del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021 e sono stati superati anche i livelli pre-covid. In provincia di Como le esportazioni sono cresciute del 16,2% e le importazioni del 32,7%. L'avanzo commerciale diminuisce dell'8%. Il settore più rilevante per quanto riguarda l'export per il comasco è quello dei prodotti tessili e quello dei prodotti in metallo, seguito dalla chimica gomma. Sul fronte delle importazioni tiene il metalmeccanico. Il principale mercato di riferimento per l'economia lariana rimane quello europeo, in primis Germania, Francia e Svizzera, seguito dal mercato asiatico e da quello americano. I dati sono stati diffusi dalla Camera di Commercio di Como elecco. Le imprese lariane confermano tutta la loro tenacia e la loro qualità anche nei periodi più problematici come quello attuale, spiega il presidente Marco Gallimberti. Nel primo semestre 2022 infatti l'export è cresciuto significativamente sia rispetto a un anno prima sia nei confronti della media semestrale del 2019, ovvero dei massimi valori pre-Covid. C'è stato, aggiunge il presidente della Camera di Commercio di Como elecco, un aumento ancora più consistente dell'import che ha ridotto l'attivo della bilancia commerciale, tuttavia il segno rimane positivo a differenza della bilancia commerciale regionale e nazionale. Il nostro attivo, dice ancora, sfiora i 2 miliardi di euro nonostante i rincari. La situazione attuale, con gli aumenti delle materie prime, del costo dell'energia e la guerra in corso, che ha portato ad una forte speculazione, richiede ora forti interventi sia a livello nazionale che comunitario. In questo contesto, conclude Gallimberti, la Camera di Commercio è presente a supporto delle imprese del territorio anche con iniziative come quella a favore della nascita di comunità energetiche a livello locale per fare fronte comune.